Quando i sovranimisti parlano di emissioni riservate agli italiani, ci stanno dicendo due cose. La prima cosa che ci stanno dicendo, italiani finanziate l'Italia. Ora, semplicemente senza fare numeri, senza fare quantificazioni. Se l'Italia è un paese in difficoltà, non vedo per quale motivo i soldi debbano essere chiesti agli italiani stessi.